Ciao a tutti ragazzi, sono Fenren Wonren e no, questo non è un video sui nuovi tedeschi ma è un video su The Gadget Esclusivi che la Club stamattina ha messo in palio. Parlerò un attimo un po' strano perché mi si è spaccato un dente durante la nottata e intanto che aspetto la risposta dal dentista facciamo un attimo questa mini recensione, questa mini guida su come partecipare. Se andate ad aprire le notifiche noterete che c'è questa immagine di Shizaki che blocca il pallone. Questa immagine praticamente vi parla di The Gadget Esclusivi che sono stati messi in palio dalla Club. Sono esattamente tappetino e mouse per 20 persone, ovvero questo tappetino e questo mouse per 20 persone, quindi 20 persone che la possono vincere. Come secondo premio invece 70 asciugamani sportive, quindi parliamo di questa, che logicamente è un esempio, e poi ci sono 150 mascherine premio C, quindi 150 mascherine che penso che siano leggermente brandizzate, qui si vede il logo di Dream Team, nulla di particolare, soprattutto di particolare. premio D invece è un buono Amazon da 1000 yen, che andando a vedere 1000 yen quanti sono, 1000 yen in euro, 1000 yen in euro sono 7 euro e 8 centesimi, quindi ok, parliamo di una cifra irrisoria, ma comunque meglio di nulla, ci sono 7 euro in palio per 100 persone, quindi non è così male, quindi un totale di 100 più 70, 170 più 150, 220, 240, quindi un totale di 240 possibili vincitori, tra cui tappetino e mouse, asciugamano sportivo, che io pensavo fosse un poster da appendere al muro, mascherina o altrimenti buono Amazon, che diciamo schifo non fa. Per poter partecipare a questo giveaway fatto dalla Keylab, quindi per una volta tanto non abbiamo dei fresh account, ma abbiamo la stessa Keylab che fa un giveaway, poi devi mettere il follow alla loro pagina di Twitter, mettendo il follow dopo ti devi commentare, ritwittare questo video, questo video praticamente fa vedere le stesse cose che vi ho detto io, ovvero il mousepad, la mascherina, l'asciugamano sportiva, e dovete ritwittare commentando se Shizaki è riuscito a bloccare il pallone o meno, dall'immagine media, cioè dal video, dal mini video, si riesce a intravedere che è riuscito a fare il blocco di faccia, quindi la risposta sarà che c'è riuscito, o almeno teoricamente secondo me la risposta sarà che c'è riuscito, poi magari la risposta corretta è che ha fallito, in quanto in realtà è una domanda, ma dal video sembra che ci sia riuscito, quindi teoria mia, ritwittare il video con il commento che Shizaki è riuscito a bloccare il pallone e aspettare i candidati praticamente di chi ha vinto e chi non ha vinto. Da ricordare, punto importante, che la campagna dura da oggi 13 fino al 17, quindi non è una campagna molto longeva, parliamo di soltanto 4 giorni, perché alla fine è venerdì, quindi parliamo solo di 4 giorni, dopodiché saranno annunciati i vincitori. I posti non sono né pochi né tanti, sono paragonati ai giveaway passati della Kelab, ai regali passati della Kelab, sono abbastanza, quindi partecipare non vi costa nulla, logicamente è una campagna mirata a far conoscere di più Capitan Subasa, Dream Team su Twitter, visto che è sconosciuto su Twitter, come gli anni scorsi ci sono state le campagne per far conoscere Capitan Subasa, Dream Team su Facebook, stavolta è stata fatta per Twitter, quindi iniziativa interessante, non male, penso di essermi spiegato bene, nonostante un dente mezzo spaccato in bocca che mi sta facendo soffrire come un cane, spero di essermi spiegato bene, l'iniziativa è interessante, i gadget alla fine sono gratuiti, a noi non ci costa nulla, quindi fatelo il prima possibile, fate retweetare anche vostra mamma, vostro cognato, vostro cugino, vostro fratello, il vostro secondo telefono, il vostro terzo telefono, insomma, in più potete partecipare, meglio è, è nulla. Speriamo che almeno uno di noi vinca uno di questi merci esclusivi, a me onestamente piacerebbe di più l'asciugamano che il tappetino per il mouse, visto che ho un tappetino per il mouse professionale, mi piacerebbe di più, diciamo, l'asciugamano sportivo. Ho la mascherina, del buono di Amazon Prime da 7 euro, cioè del buono di Amazon non Prime, del buono di Amazon da 7 euro, chapeau, però, diciamo, il merce esclusivo, tra virgolette, esclusivo, quindi ti attira un pochino di più, sempre da dire che comunque non è che stiamo parlando di un poster gigante firmato dall'autore, ma stiamo parlando comunque di una cosa abbastanza basic, però comunque è carina. Quindi ricordatevi di partecipare entro, soprattutto prima del di venerdì 17, quindi prima di venerdì 17, per sicurezza, mercoledì, già se avete più account, più telefoni, cugini, parenti, cognati, capre, gatti e cani, fate partecipare tutti il prima possibile e ne gioverà sia il gioco, perché ne avrà più attenzione mediatica, quindi c'è più possibilità di un rientro di nuovi player, sia noi che magari riusciremo a vincere uno di questi, riusciremo a vincere uno di questi, di questi poster asciugamani, bonus o quel che sia. Spero che il video sia stato, spero che il video sia stato utile in qualche maniera, non dimenticate di partecipare, chapeau a tutti e ragazzi ci becchiamo alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie.